Pronto! Pronto! Pronto, polizia, chi parla? Sono Marco. Io volevo notizie del mio papà. Lavora in America, vicino ai grattacieli. Sono preoccupato. Non ho ancora chiamato. Io sono lui. E se l'ho perso. Purtroppo, la lista dei dispersi è molto lunga. Per ora non posso aiutarti. Mi dispiace. Pronto! Pronto Marco. Figlio mio. Papà! Pronto! 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 Sando con te figli mio